Quest'anno la Pasqua anch'io la festeggio come tutti a casa, quindi il mio augurio di buona Pasqua a tutti festeggiandolo come tutti i cristiani e quindi vedendo nella croce tutto il dolore che lei esprime però sempre guardando al futuro, a quello che è la nostra resurrezione praticamente. Quindi il dolore, di dolore oggi ce n'è molto, la crisi economica, i terremoti, il virus e quanto altro aggiungo pure che oggi c'è la difficoltà delle casse integrazione come quella che sta mettendo in atto Irpini Ambient e quindi tutto questo dolore praticamente deve essere superato, superato come? Dalla nostra fede, cioè dobbiamo avere fede in tutto quello in cui crediamo in modo molto molto forte. Quindi ancora una volta buona Pasqua e il consiglio di tutti, festeggiamola a casa, io resto a casa, buona Pasqua.